Negate la vostra storia, ma io non lo so, 50 persone pacifiche, una manifestazione pacifica, ma che cazzo fate? 30 persone saranno, pagate da noi, perdete il vostro tempo così. Non sono venuti perché questo sono una cultura che impedisce un colore. Se io voglio un paquitano, o vennapao, vennapostao, vennapostao. Se io voglio un paquitano, divirtелю di se pedire. Se pedire su montagna, o vennapostao, vennapostao. Se pedire su montagna, ocorre un caldum culto. Grazie a tutti. Grazie a tutti.